Prime parole da Nero Azzurro per Diego Forlano. Bella opportunità, no? Deve fare qui una squadra più importante come l'Inter. Volevo ringraziare il presidente, il dirigente della Ciotat, perché è un'opportunità bella per me di fare qui. Capo cannoniero in Spagna, l'obiettivo è quello di ripetersi anche in Italia? Penso di fare bene e non ho mai pensato a vincere le piccici, le scalpe di oro. No, niente, no. Sempre ho giocato, ho disfrutato il gioco e non ho mai pensato a niente. So giocare, fare meglio per la squadra e disfrutare della partita. Sull'argomento posto fisso in squadra, El Caccia risponde. Oggi in qualche squadra è così, ma in una squadra come l'Inter c'è tantissimi grandi giocatori. La competizione è buona e tu devi stare in una bella condizione per giocare, per aspettare l'allenatore e fare la squadra. Non c'è problema, non c'è problema. Solo allenarsi bene e aspettare l'allenatore. Infine, non poteva mancare un commento sul prossimo derby. Molti anni giocando la palla, lo so che sempre per i giocatori la squadra che tu stai giocando non è la migliore, però ti hai la confianza sufficiente con i compagni e tutto che quando vai a giocare un gioco posso vincere. Quindi è importante. Dopo che il tifosi o il giornalista parla che una squadra è migliore che l'altra, la gente e i tifosi. Noi, la nazionale non era un favorito. Io ho vinto la Coppa America, è così. Con l'Argentino e il Brasile, quando noi vanno a giocare là, sempre il favorito è l'Argentino e il Brasile. Per l'Uruguay vince. Lasciamo il Milan favorito. Bene. Dopo sul campo 90 minuti è un'altra cosa.